Mi avete incuriosito. Non voglio rubarvi troppo tempo. Sono tornato a esaminare i vostri progetti. A voi non sono piaciuti e a me piacciono molto. In verità ci sono abituata. Io non ho detto che non mi sono piaciuti. Ho detto che non vi trovavo ordine. Questa abbondanza di caos. E questo è il vostro Eden. La mia ricerca dell'Eden. Vi ho raccontato il peso dell'essere esposti al pubblico. Vi risparmierò ripetizioni, ma, madame, nel mio mondo anche l'anarchia è agli ordini del re. E il caos deve attenersi al bilancio. Buonasera.